Ben trovati da Nico Schiodetto, previsione per la giornata di sabato. Intanto analizziamo a livello europeo, possiamo vedere due centri depressionari, uno che si sposterà dalla Grecia verso la Turchia, un secondo a largo delle isole britanniche e sull'Italia momentaneamente arriverà un campo di alta pressione dalla Spagna a dal Nord Africa in rinforzo e quindi favorirà un bel weekend. Perturbazioni di fatti che scorreranno alle attitudini settentrionali a nord delle Alpi e da noi quindi l'arco alpino, la barriera alpina ci proteggeranno dalle piogge. Nel dettaglio ecco il sole che non mancherà su tutta la nostra penisola, cieli sereni o poco volosi, solo della variabilità da segnalare sull'Apennino Meridionale. Un bel weekend con clima freddo di notte al centro nord ma poi le massime mediamente tra i 13 e i 18 gradi dappertutto. Attenzione ai venti che saranno sostenuti al sud con mare giatte sulle coste esposte della Puglia. Tutti i dettagli precisi, gli approfondimenti sull'app di Trabi Meteo.